Sava, Piazza San Giovanni, lunedì 10 agosto, ore 21, Galà, Calici di Stelle. È un'iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Sava, in collaborazione con Città del Vino e Movimento Turismo del Vino. Causa normativa anti-Covid, quest'anno non ci saranno i consueti spazi riservati alla degustazione e l'evento sarà limitato ad uno spettacolo di moda, durante il quale avrà luogo il premio Donna dei Due Mari e saranno anche premiate eccellenze del nostro territorio nel campo vitivinicolo e dell'enologia, nonché figure che si sono contraddistinte durante l'emergenza coronavirus. Infoprenotazioni posti a sedere 392 68 90 520 I posti prenotati saranno riservati entro e non oltre le ore 20 e 45. L'evento sarà trasmesso in diretta dall'emittente televisiva RTM. L'evento sarà trasmesso in diretta dall'emittente televisiva RTM.